Ciao amici, oggi vi parlo delle sardine, sì perché non voglio mai perdere occasione di parlare bene di questo gruppo di persone, un gruppo di persone che si sa ama il prossimo, vuole bene al prossimo, come dimostrano i loro cartelli, le loro manifestazioni e tutto quanto quello che riguarda il loro impegno nel sociale. Allora dicevo, ieri siccome sono lontani dalla politica hanno sostanzialmente invitato il Partito Democratico, e lo dicono pure, lo dicono quelli delle sardine sulle loro pagine dei social, invitato il Partito Democratico a proporre un testo che riguarda la famosa commissione anti-odio a Milano. Il PD ha raccolto subito con impegno, e anche perché ricordatevi manca solo un annetto alle elezioni e qui il PD comincia ad avere un po' di strizza, insomma quelli del PD hanno raccolto questo invito e ieri si è discusso di questo. Sì, a Milano con la metropolitana che purtroppo cade a pezzi, con continui fermi, con l'aumento delle multe, con l'aumento delle tasse, con purtroppo, lo dobbiamo dire, ancora un pochino di problemi per quanto riguarda l'ordine pubblico, soprattutto nelle periferie e in alcune aree della nostra città, di cosa si occupano? Beh, dell'invito delle sardine. Complimenti. Però ieri abbiamo discusso, votato, lavorato su questo argomento e ieri non ho perso occasione di ricordare ai signori del PD, e adesso lo faccio pubblicamente anche ai signori delle sardine, ai signori sardini, che la prima persona che verrà denunciata alla famosa commissione anti-odio che verrà realizzata nel Parlamento della Repubblica Italiana sarà dipendente del Comune di Milano, sostenitrice del signor Giuseppe Sala, sindaco di Milano, lavoratrice del Comune di Milano, dipendente al gruppo, assegnata a uno dei gruppi che sostiene Giuseppe Sala, sindaco del PD a Milano, che su Israele dice che è una feccia, guardate un po', e sugli ebrei, soprattutto di sinistra, dice che guardate un po'. Quindi lasciamo stare l'odio verso la Lega, guardate un po'. Ma sicuramente, siccome i sardini da una parte e il PD dall'altra sono tutte persone che amano, 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 sicuramente questa signora sarà la prima ad essere denunciata alla commissione anti-odio che verrà realizzata nel Parlamento Italiano. Perché sono sicuro che sarà la prima denunciata? Perché se per caso gli amici del PD e i sardini si dimenticano di denunciarla, il primo a farlo sarò io. Ciao!